Invece giovedì grasso al Cinema Politiama di Fano verrà proiettata l'anteprima nazionale di Non aprite quella sporta, il nuovo film scritto, diretto e interpretato dai comici del San Costanzo Show. Dai 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 dai, finalmente siamo qui a promuovere il nostro nuovo film comico Non aprite quella sporta. Abbiamo fatto una visione per pochi, una visione privata ed ecco uno degli spettatori che lo ha visto in anteprima. Prego venga, venga. Eccoci qua, buonasera a tutti, ai telespettatori del Telefano, vi saluto a tutti, molto piacere, io mi chiamo Mirko Ioni, però ecco se sta brutto che non si può dire, mi potete chiamare Ioni Mirko, però il concetto ha capito. No vabbè, è uno il nome che ha. Eh, capito, mi chiamo Mirko Ioni, quello è. Niente, volevo dire, allora il film l'ho visto, ragazzi, veramente questa volta avete fatto un colpaccio. È il film della vostra vita, veramente, funziona tutto, la regia, la storia, la musica, te proprio, hai capito, te prendi, io, non, veramente, è un film sensazionale. Sensazionale, è bellissimo. Ma dove l'avete girato? L'elicottero, la scena con l'elicottero che atterra in te l'acqua, ma con le barche che scendete in te la spiaggia con i mitra a salire la spiaggia, tu bim, 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 tutti i proietti. Ma dove l'avete girata? A Ponte Sasso, quella? Dove l'avete fatta? Non c'è nessuna scena. Con i proietti, ta-ta-ta-ta, tutta la spiaggia. Non c'è nessuna scena con l'elicottero, con i mitra in spiaggia, che film ha visto lei? Ma non è, il film non è cosa, Salvate il soldato Coso, Salvate il, come si chiama, il soldato, Salvate il, Salvate il soldato Coso. Ma no, e non aprite, non aprite quella sporta è il film, che film ha visto? Ha visto un altro film. Ho sbagliato, allora, ma dove l'avete mandato? Non l'ho visto, io sto, non aprite. Jeffrey, sono Rosa della Cecca. Sì, signora, buonasera. Quello ha visto il film sbagliato, il nuovo film del Sal, con Salto Coso, si chiama Non aprite quella sporta. Brava, lo dica, forte. Dica piuttosto lei, quando è che si può vedere questo film? Ormai ci siamo, ormai ci siamo, perché tra poco è giovedì 16, alle ore 21, c'è la prima al Politeama di Fano. Di che mese? Adesso, febbraio. È giovedì grasso. È giovedì grasso. Allora porto le castagnole, va bene? Bene, per tutti. Brava, così maniamo tutti. Aspetti, perché poi c'è anche il venerdì 17 febbraio, alle ore 21, sempre a Politeama. Sabato 18, invece, a Pesaro, al Teatro Sperimentale, doppia proiezione, 19.15 e 21.15. C'è a Pesaro più grossa, è vero, doppia, doppia. Alla settimana dopo, sabato 25, alle ore 21, sempre a Politeama di Fano e domenica, invece, 26 febbraio, alle ore 17 pomeriggio. Alle 17, bene, così portano tutte le clevecchie, ma lì del paese. Ecco, perché loro la sera dopo dormono. Dai, bene. Vi aspettiamo numerosi. No, stai, io non vi voglio disturbare adesso questo siparietto, però andate a vedere pure Salvate il Soldato Coso, che è veramente un bel film. Vabbè, quello dopo... Che sparano tutte in girata a metà a origine. Ma no, adesso stiamo promuovendo il nostro e non aprite quella sporta, non è che uno dice vada a vedere anche l'altro. È bello, è più bello il nostro, fa più ridere, tanto. Fate come vi pare, andate a vedere il film che vi pare. No, è il nostro, promuovendo il nostro. Non è che uno dice andate a vedere l'altro. Non aprite quella sporta. Non aprite sta porca. La sporta. Non aprite sta porca. Vi aspettiamo. Ciao belli, ciao, ciao, 25, 26, 28, 28, 장co di giorno. Il nostro sito, saccostatoico.com, tutte le date ai giorni. Tutti al cinema, via, vi aspettando. E che uno, ci sto promuovendo, ma no, promuoviamo il film nostro, Lady...